Ragazzi, buongiorno, vi volevo ricordare che domani alle 18.30 in via Bernini 4 inauguriamo il negozio di cellulare del mio amico, ci sarò anch'io, venite facciamo un brindisi insieme, vi aspetto a domani. Oggi il nostro chef ci sta preparando i gnocchi, ma Ciro tesoro noi non veniamo al negozio di telefonia, noi veniamo a mangiare a casa tua che è diverso e dagli gnocchi passiamo alle perle. Per l'avatiero ha un sacco di impegni di lavoro, vi posso dire che è stracercata dai brand al momento e anche come modella, mi dispiace, vedo un sacco di critiche sotto spesso ai miei video, io non rispondo ma vedo andate a lavorare, ma i ragazzi del grande fratello lavorano. Chiudo con Letizia, questa foto mi era sfuggita, ciao!